venerdì 12 agosto 2022 sono da poco passate le ore e quindici segnatevi questo giorno segnatevi questa data e segnatevi questo orario perché finalmente arriva l'annuncio di calcio mercato inter a questo punto più atteso dopo tanti giorni di chiacchiere indiscrizioni voci di mercato che si sono rincorse ha parlato mister Simone Inzaghi lo ha fatto nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Lecce e mister Simone Inzaghi si è esposto in maniera piuttosto importante sul tema del mercato è arrivato un annuncio che come dicevo a questo punto diventa forse più importante di un acquisto più importante di uno di un colpo in entrata perché di fatto Inzaghi dice di aver concordato con la dirigenza e con la proprietà attenzione ribadisco Inzaghi sottolinea di aver concordato con dirigenza e proprietà che il mercato in uscita per l'Inter si deve considerare chiuso la squadra è questa e va considerata questa squadra c'è un ma comunque da tenere lì da tenere sempre dietro l'angolo per non rimanere troppo scottati nel caso in cui diciamo dovesse poi succedere qualcosa da qui ai prossimi giorni adesso ne parliamo ma innanzitutto ben ritrovati ben ritrovati amiche amici di passione inter in questo nuovo episodio una sorta di edizione straordinaria perché eh originariamente non era in previsione di pubblicare un nuovo contenuto dopo la conferenza stampa del mister di cui invece parleremo in maniera più approfondita nella nostra diretta quotidiana alle ore diciannove trenta però le dichiarazioni di mister di Simone Inzaghi sono piuttosto importanti quindi abbiamo dovuto eh anticipare un approfondimento specifico sul tema mercato quindi innanzitutto iscrivetevi subito al nostro canale se non lo avete ancora fatto così poi non vi perdete neanche gli altri contenuti che andremo a pubblicare nelle prossime ore a tema eh Lecce Inter e non solo eh nel frattempo però come dicevo andiamo sulle dichiarazioni di mister Simone Inzaghi andiamo sulle dichiarazioni che riguardano il mercato le condivido dal nostro sito passioninter.com dove abbiamo raccolto in diretta le dichiarazioni del mister partendo proprio da una prima dichiarazione perché poi durante la conferenza il mister ci torna e la prima dichiarazione è questa la leggo Inzaghi dice la squadra è quella che ho concordato con società e proprietà la squadra sarà questa sappiamo che ci manca un giocatore nel ruolo di centrale per sostituire Ranocchia e la società sta lavorando su questo penso di non doverne più parlare da qui in avanti perché il nostro mercato sia in entrata che in uscita è chiuso un primo messaggio qui il mister mi è sembrato molto diretto molto convinto molto preciso nel dare questa indicazione eh che poi viene arricchita diciamo così da una seconda dichiarazione che troviamo più in basso dove ho visto il mister anche un po' stizzito e mi ha lasciato anche un'altra sensazione questo messaggio sulla quale tra pochissimo ci arriviamo prima però ve la rileggo perché il mister dice riguardo alle rassicurazioni del club in ottica mercato eh Inzaghi dice appunto l'ho detto è stato concordato con società e proprietà di mercato ora per rispetto anche dei tifosi non dobbiamo parlare più la squadra rimarrà questa ad eccezione del sostituto di Lanocchia su cui si sta lavorando il mio focus ora è sul Lecce non sul mercato né in entrata né in uscita qui dichiarazione che dicevo riprende un po' quello che aveva detto prima mi è sembrato in questo secondo passaggio un po' più stizzito eh e un po' più tra virgolette aggressivo se così vogliamo dire eh che cosa ci dicono quindi queste parole ed anche il modo in cui mister Simoninzaghi ha pronunciato queste dichiarazioni partiamo dalle dichiarazioni in entrata in entrata sappiamo eh che serve un nuovo difensore Inzaghi lo ha ribadito si sta cercando di inserire un sostituto di Lanocchia lo sapevamo già ma è stato nuovamente certificato quindi diciamo che eh le ipotesi che erano emerse nei giorni scorsi di soluzioni di emergenza come Darmian e Di Marco da utilizzare in difesa con all'occorrenza Skriniar a scalare al centro al posto di Defray vanno in soffitta le mettiamo da parte si sta lavorando e si cercherà di prendere un altro giocatore lì in mezzo proprio da alternare a Defray comunque da per riempire la casella di Andrea Anocchia chi sarà questo giocatore considerando il budget che c'è a disposizione in questo momento è logico pensare che il profilo sarà un profilo eh low cost ho visto diversi giornali anche in queste ore ipotizzare un piccolo investimento cercando per esempio di strappare ad una cifra ancora più bassa a Kanji dal Borussia Dortmund visto che eh il difensore svizzero è in scadenza di contratto col Borussia Dortmund e praticamente è fuori rosa personalmente però devo dire che ad oggi per quanto io eh darei la mia personalissima benedizione a questo innesto anzi sarei ben felice di avere a Kanji come difensore alle spalle dei titolari quest'anno eh credo però che ad oggi lo scenario più probabile sia quello di eh una mossa anticipata da parte dell'Inter che potrebbe metterla in posizione di vantaggio per bloccare il giocatore ed averlo poi o a cifre di saldo a gennaio oppure ancora più probabile a parametro zero tra un anno per il 2023. Nell'immediato invece attenzione a quello che può accadere negli ultimissimi giorni di mercato perché si possono aprire sempre degli spera degli spiragli che ad oggi sembrano anche impossibili da da vedere e quindi potrebbero aprirsi degli spiragli anche per nomi veramente a sorpresa altrimenti ad oggi stando alla situazione attuale è facile pensare che il nome in pole position rimanga quello di Acerbi eh un po' perché conosci Inzaghi un po' perché le caratteristiche di Acerbi si addicono anche a quello che serve all'Inter probabilmente lì dietro ma anche soprattutto perché c'è chi dice che a ridosso della chiusura di questo mercato estivo eh la Lazio potrebbe anche liberarlo a zero praticamente quindi può rappresentare un'opportunità a me personalmente l'ipotesi Acerbi non fa impazzire lo abbiamo detto più e più volte però se guardo all'aspetto tecnico sarebbe secondo me un giocatore utile per questa stagione è un po' quello che ci manca può agire da centrale ma anche sulla sinistra e personalmente non sono d'accordo con chi dice che se devi prendere Acerbi allora tanto valeva tenersi la Nocchia secondo me sulla singola stagione che andremo ad affrontare Acerbi può dare qualcosina in più rispetto a quello che ha dato la Nocchia con tutto il rispetto per un giocatore per me importantissimo nella storia recente eh nera azzurra questo per quanto riguarda il mercato in entrata dove quindi come diciamo si lavora ad un ultimo innesto quello di un profilo da inserire in difesa in uscita invece la notizia più importante chiaramente è quella che riguarda l'uscita dove con queste parole Inzaghi sostanzialmente dice che Dumfries ma soprattutto Minan Skriniar che sono i due nomi forse un po' più chiacchierati in questo momento vanno considerati fuori dal mercato blindati dall'Inter una notizia troppo importante assolutamente lo dicevo anche nel contenuto che ho pubblicato qualche ora fa in cui parlavo delle mie prospettive per la prossima stagione ed in ottica Scudetto è troppo importante confermare entrambi i giocatori secondo me ma soprattutto Skriniar qual è il ma diciamo la lo spiraio che mi tengo aperto in queste dichiarazioni per non rimanere eventualmente troppo deluso diciamo che soprattutto nella seconda dichiarazione l'ho visto un po' più aggressivo il mister dicevo no e le dichiarazioni di Inzaghi secondo me potrebbero essere lette anche in un altro modo vedremo poi se si concretizzerà questa cosa meno nel senso che possono essere anche un tentativo da parte di mister Inzaghi di fare un po' la voce grossa in pubblico sul tema delle uscite e spingere quindi pubblicamente contro la dirigenza e contro la proprietà affinché si blindino tutti i giocatori e soprattutto quelli due quei due di cui stiamo parlando un modo anche per dire che se poi dovessero arrivare offerte pesanti o comunque all'ultimo dovesse partire uno di questi giocatori ecco il mister diciamo avrebbe già mosso i suoi passi si sarebbe cautelato parlando pubblicamente dell'esigenza di blindare tutti e la palla rovente soprattutto le critiche andrebbero dirottate direttamente sulla dirigenza o ancora di più ovviamente sulla proprietà dell'inter questo può essere uno scenario da non sottovalutare perché Inzaghi dice la squadra deve rimanere questa lo abbiamo concordato e il mister è molto molto diretto su su questo tema è però un terreno di potenziale scontro in base a quello che avverrà nelle prossime settimane Inzaghi si è esposto molto e quindi come dicevo segniamoci questa data segniamoci queste orarie o soprattutto segniamoci queste dichiarazioni perché poi ovviamente nei prossimi giorni vedremo effettivamente che cosa accadrà e non lo dimenticheremo eventualmente tra l'altro anche qui non so in quanto in questo discorso di uscite che chiuse rientri casa dei per me per esempio il talento della nostra primavera a malincuore non rientra nei giocatori considerati da non toccare nemmeno nel discorso di Inzaghi perché Inzaghi fa sempre riferimento come squadra a quei venti calciatori utili di cui aveva parlato già diverse settimane fa ovvero i tre portieri più venti giocatori di movimento quindi due giocatori disponibili e affidabili per ogni ruolo quindi su casa dei intanto vanno sempre avanti i discorsi soprattutto sul sassuolo e in particolar modo occhio al Chelsea e ad oggi stando appunto anche a queste dichiarazioni possiamo aggiornare secondo me la grafica che facciamo che vi portiamo sempre sui nostri canali della formazione attuale dell'Inter che al via al blocco di partenza di questa stagione ha Andanovic e Onana in porta screener d'Ambroso sulla destra bastoni e Di Marco sulla sinistra con la possibilità anche di vedere Darmiana lì dietro De Frai e l'innesto di cui ha parlato Inzaghi da inserire lì al centro Dunfriss Bellanova la coppia a destra Gosens e Darmian o Di Marco la coppia sull'esterno a sinistra centrocampo in mezzo le coppie sarebbero Barella Gaiardini Brozovic Aslani Ciannoglu Mkhitaryan e in attacco Lukaku Dzeko Lautaro Correa questa è l'Inter ad oggi abbiamo tolto il punto di domanda su screener e Dunfriss rifacendoci proprio a queste dichiarazioni di mister Inzaghi sperando poi che effettivamente sarà così per me questa oggi dovesse rimanere effettivamente così come annuncia mister Simone Inzaghi è una formazione di tutto rispetto che così può assolutamente lottare per fare molto bene per arrivare fino in fondo a patto che rispetti le condizioni di cui ho parlato nel precedente episodio che vi invito a recuperare ora però ovviamente la palla passa al campo concentriamoci sul campo concentriamoci sull'Ecce Inter incrociamo le dita affinché il mercato effettivamente possa concludersi così con le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi ci rivediamo in diretta alle diciannove e trenta poi come ogni giorno per analizzare in maniera più approfondita tutte le parole del mister e non solo e poi ovviamente vi ricordo oltre alla diretta alle diciannove e trenta nel giorno della partita come facciamo sempre torna l'appuntamento dalle dodici dalle dodici alle tredici anzi con la nostra live preview del match dove ci confrontiamo e parliamo molto della partita ovviamente oltre chiaramente in serata alle diciannove e trenta un'ora e quindici minuti prima del fischio iniziale il nostro solito appuntamento con la live reaction più seguita in Italia e vi aspettiamo in descrizione vi lascio il link per chi ci segue in podcast per ascoltare il mio messaggio di inizio stagione spero che lo ascolterete lo condividerete tutti mentre per chi ci segue da youtube vi lascio il video qui vi basta cliccare e spero che lo guarderete mi raccomando inizio stagione inizio stagione inizio stagione inizio stagione